...i tempi benefici in chiave mercato, parlando con alcuni tifosi, prima della partita sai che a me piace, tutti si sono detti con... ...si libera a bere qui, attenzione la palla è lì... ...Runei, occhio a Runei che trova a calciare, portiere che blocca... ...Duvan Zapata, la gioca profonda a Mbappé, occhio al tocco filtrante, Rente che apre le marcature, Duvan Zapata, c'è spazio per andare... ...Parti... ...la gioca lunga a Mbappé, vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari e ancora presto per... ...Parti... ...palla buona per Mbappé, che gol! Splendida Rete! ...con il numero 21... ...il possesso per Roberto Carlos... ...salta il difensore... ...hanno sprecato una grande occasione, a tu per tu col portiere, potevano andare in vantaggio... ...bravo il portiere a rimanere in piedi fino all'ultimo, intervento salva risultato questo... ...calcio all'angolo battuto al limite dell'aria... ...ha provato la botta, c'era la potenza, non la mira... ...palla che... ...palla per Thomas... ...Duvan Zapata... ...buona l'idea qui... ...ha salvato un gol certo qui il portiere... ...decisivo quel portiere, è rimasto lucido fino all'ultimo... ...straordinario stacco di testa... ...una partita a senso unico... ...va vuoto il difensore... ...attenzione tutto solo... ...hanno accorciato le distanze con questo gol... ...e cercano la rimonta perfetta... ...può colpire da lì... ...Duvan Zapata... ...e in fila il portiere... ...hanno sfruttato nel migliore dei modi il pallone recuperato in precedenza... ...ottimo il pressing qui... ...pressing efficace... ...che ha permesso il recupero... ...palla e... ...quindi il lancio... ...qui il difensore ha delle responsabilità... ...beh direi molte Pierre... ...tutto facile per Areola... ...Runei... ...attenzione a Busquets... ...buono il lancio... ...smarcante... ...portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà... ...occhio al cross... ...risolve una situazione complessa... ...e la messa... ...gesto tecnico spettacolare... ...conclusione al volo per la difesa... ...ha avuto forse troppa fretta... ... ed è finito in fuori gioco...